Do due ospiti, allora Sì, buonasera, approfittiamo di questa pausa nella prima votazione per un primo commento su questa prima poderosa fumata nera per l'elezione del Quirinale Siamo con Fabrizio Cicchitto del PDL e con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera 5 Stelle Invece voi avete ottenuto un risultato al di là della vostra consistenza numerica con Rodotà Assolutamente, al di là delle dichiarazioni ufficiali che sono venute da alcune forze politiche stamattina che sostenevano Rodotà Siamo circa 80 voti sopra i voti di SEL e Movimento 5 Stelle In questo momento Rodotà non è un appello alla sinistra è un appello a tutte le forze politiche del Parlamento Chi vuole cogliere questa opportunità può farlo, fuori da accordi Bersani è riuscito a esprimere un candidato, Presidente della Repubblica che mette insieme il centrodestra ma distrugge il suo partito L'unico vero sconfitto da questa cosa sicuramente è Bersani che ha un partito frammentato in due, in tre A chi voterà Rodotà? Voi che cosa proponete poi? La formazione di un governo insieme? Ma noi semplicemente con Rodotà, che ripeto non è un candidato del Movimento 5 Stelle ma è venuto dalla rete ed è una persona che sicuramente può essere patrimonio del popolo italiano semplicemente diamo un'opportunità per fidarci Mettiamoci insieme intorno ad una persona che è sicuramente terza non è del Movimento 5 Stelle, lo ripeto perché Rodotà potrebbe essere anche una persona che più volte si è espressa in maniera critica nei confronti del nostro Movimento ma che viene da una consultazione dei cittadini in rete e che può rappresentare un'opportunità per presentare un Presidente della Repubblica non frutto dei accordi di Palazzo Per ora è tutto, a te la linea